Albano ha spiazzato i fan, è sposato con Loredana Lecciso? La sua dichiarazione ha fatto il giro del web, ingenerando curiosità. Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono sentimentalmente legati da oltre un ventennio. Si sono incontrati per la prima volta nel 1999 e, da quel momento non si sono più lasciati. Si sono conosciuti fuori da una scuola di Lecce, lui aveva accompagnato le sue figlie e, Loredana Lecciso la sua primogenita. Sono circa 23 anni che stanno insieme, hanno attraversato anche momenti difficili, ma sono sempre rimasti insieme uniti da un sentimento fortissimo. Hanno fronteggiato sfide impervie, la prima crisi ha fatto capolino quando Loredana decise di dare il via alla sua carriera televisiva insieme a sua sorella Raffaella. I fan ricordano bene quando hanno poi discusso in diretta TV all'Isola dei Famosi, Albano era infatti un concorrente accompagnato dalla figlia Romina. Superata la burasca il loro rapporto è divenuto sempre più forte. Albano e Loredana Lecciso sono già sposati? Cosa ha dichiarato il cantante? In una recente intervista il cantante pugliese ha dichiarato di essere in perfetta sintonia con la sua compagna, di amarla e stimarla molto. Il loro rapporto procede dunque a gonfivele anche se i detrattori puntano il dito contro la coppia accusandoli di non essere sposati. Taluni ritengono infatti che il cantante non sia mai convolato a nozze con l'Alecciso perché ritiene che sua moglie sia ancora Romina Power. Una speranza vana, debbono rassegnarsi tutti coloro che vorrebbero rivederli insieme, oggi il cantante pugliese è felice ed appagato accanto alla sua Loredana. Qualche tempo fa l'Alecciso ha rivelato ai giornali di aver pensato al matrimonio insieme ad Albano, spiegando che in realtà sono già sposati mentalmente e che un'ufficializzazione non cambierebbe la forza del loro sentimento. Il cantante ha risposto pubblicamente dicendo, il matrimonio non serve più. E poi sia io sia lei abbiamo già fatto quell'esperienza. E va bene così. Sono dunque sulla stessa lunghezza d'onda, anche Albano ha asserito di non aver bisogno di un documento che attesti la loro unione. Di fatto, nella quotidianità vivono come se lo fossero. Si amano, si supportano nei momenti difficili reciprocamente e, gioiscono per le vittorie dell'altro. Hanno vissuto crisi che hanno rischiato di dividerli, ma non si sono lasciati scalfire dalle avversità ed oggi continuano a camminare insieme sul sentiero della vita. Una coppia dunque stabile e longeva, tra le più amate dello spettacolo, con buona pace di chi non credeva nella loro storia.